Lungo l'esistere in lui, centro spirituale frattocchie, un gruppo di sperimentatori si riunisce in armonia e umiltà attorno a più medianità per stabilire un contatto con l'oltre dove la coscienza individuale inizia a intuire la coscienza cosmica. Gli insegnamenti giungono da maestri immateriali per rispondere alle antiche domande «Chi sono? Da dove vengo? Dove vado?». Centro spirituale frattocchie, attraverso flora, guida. La grandezza, la giustizia e la bontà del padre, non potendo permettere che i suoi figli restino lontani da lui per l'eternità, hanno concesso la legge di reincarnazione, affinché la sofferenza e il pentimento possano redimere i suoi figli e portarli, privi di scorie e pesantezze, lungo l'esistere in lui. La Chiesa oggi non accetta la rinascita, ma è stata portatrice del cristianesimo e va tenuto conto dei suoi insegnamenti. La legge di rinascita è insostituibile per conoscere la natura di noi stessi. Quando l'essere umano ha fatto proprio a questa conoscenza, il padre riprenderà il figlio nel suo aspetto di luce e di amore e la condizione umana sarà meno aspra e più adatta all'amore e all'armonia del creato. Grazie Grazie Grazie